Salve a tutti ragazzi, sono LordKane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato. Oggi analizziamo questo bel pack di mani, 42.000 mani dei Sbitos, giocatore che gioca a sui stars. Vi ha mandato questo pack di mani in cerca di aiuto e conforto, anche e soprattutto, immagino, per cercare di capire come mai noi stiamo vincendo e direi che non sarà così difficile correggere le linee di gioco di questo giocatore. Allora, intanto, dobbiamo comprendere una cosa. Il profilo di giocatore, un 30-25, è un profilo fish, comunque, per cui manca sicuramente dello studio. Non è per offendere il nostro Sbitos, tutti partono da un livello di gioco, stiamo giocando in un livello di due. È naturale che sbagliamo, perché abbiamo appena iniziato, in sostanza, e però, ragionando su ciò che abbiamo fatto, dobbiamo sempre cercare di migliorarci. Ora, sappiamo che lo studio di stats è utile fino a un certo punto, nel senso che dobbiamo conoscere un po' un modello ideale, diciamo, di un giocatore che vorremmo essere noi del futuro, che avrà un certo profilo di statistiche, ma quel profilo di statistiche dipenderà da come abbiamo giocato. Non è che dobbiamo, concettualmente, giocare in modo da avere quelle stats. Dobbiamo giocare contro i nostri avversari, con lettura e con metodi, con criteri giudizio, partendo dalle nostre, entrando nelle loro, eccetera, e allora avremo un certo tipo di statistiche, ma non il contrario. So che sembra un concetto un po' strano, ma se noi vogliamo, che ne so, abbiamo cinque di tribet, sappiamo che è un neat per un certo motivo, è un leak, così, non è che dobbiamo dire, ok, tribetiamo di più, aggiungiamo mani nel nostro range, tribetiamo, dobbiamo cercare di allargare la comprensione del nostro range, la comprensione, una volta capito il nostro, del range dei nostri avversari, che hanno un range simile al nostro, e poi quelli che hanno un range diverso dal nostro, così da avere un tribet che magari di media diventerà un 8, ma contro alcuni sarà un 15, un 12, in certe posizioni, contro altri sarà un 3, contro altri sarà il range floating, e via discorrendo. Comunque, andiamo a capirci qualcosa, apriamo intanto una mano a caso, 8-8, così mi piace, 8-8, la mano bellissima, anche perché credo sia tipo la mano feticcio orientale, no, l'8 è un po' il numero magico, e quando un giorno avremo il poker punto mondo, si divertiremo come dei pazzi. Comunque, profilo di stats 30-20, alto gap di call, lo andremo a vedere in dettaglio, basta un tribet, vedete quanto lontani sono queste stats, 30-20, per cui stiamo chiamando un terzo delle mani. La tribet è un sesto del nostro intero range, cioè proprio una parte, diciamo, piccola, lo squeeze è minore, proprio lo squeeze è... concettualmente è semplicemente che abbiamo ancora meno range, come se noi vedessimo la situazione, un giocatore rilancia e un giocatore chiama, come situazione di estrema forza, no, da parte dei nostri avversari. In realtà, il range dell'origine resa deve essere esattamente lo stesso, il range del giocatore che ha chiamato, probabilmente pure debole, ok? Perché ha chiamato solo. Per cui, il nostro squeeze non necessariamente deve essere più piccolo delle nostre linee di tribet. Il forbet 1.1, lo abbiamo già visto molte volte, possiamo immaginare concettualmente che un 1.1, lo andiamo a scrivere qua, 1,1, era 1.1, ok, sia vagamente un forbet sbilanciato in value, 1.1 vuol dire alcune combo di QQ, come idea, cioè praticamente stiamo forbettando praticamente solo value. Che bello dire praticamente così tante volte. Ora, non vuol dire che dobbiamo allargare moltissimo il range di forbet, dipenderà dai nostri avversari, eccetera, eccetera, ma è chiaro che qui se abbiamo una linea è estremamente sbilanciata in value. Ora, molti giocatori, soprattutto alle prime armi, vedono il rilancio preflop, la tribet preflop, il forbet preflop come un po', diciamo, una caduta nel gambling, perché devono ancora uscire le carte, per cui, il flop, il turn, il river, chi me lo fa fare di gamblare preflop? In realtà, non è che stiamo gamblando, stiamo, diciamo, creando concettualmente lo spot ideale perché il nostro range possa dare il meglio il nostro intero range. Se noi in quel flop preflop abbiamo solo a sua asse KK, è chiaro che al flop il nostro range sarà tipo sempre quello, sempre overpair, non esiste altro board che interemo in altro modo e su certi board saremo veramente sempre under the trail, ma ovviamente la nostra forbet si baserà principalmente sulla tribet range dei nostri avversari, va benissimo sbilanciare in value, però uno forse è un po' troppo poco. Quindi tribet, forbet, la linea di fold può anche andare, certo apriamo un range troppo aperto, soprattutto dalle prime posizioni stiamo aprendo veramente troppo, abbiamo un 27 d'MP, andremo a vedere dopo cosa è under the gun. Curiosamente interessante la difesa dei bui perché in questo spot stiamo chiamando con giudizio, diciamo, mentre nelle altre posizioni stiamo affrettando un po' troppo, sicuramente da aggiustare il nostro profilo di cibet. Apriamo abbastanza perché stiamo aprendo 49 bottoni e stiamo cibettando 37%, praticamente un terzo del nostro range. Sostanzialmente abbiamo una linea sbilanciata in value, turn poi stiamo bettando metà delle volte, partiamo dal range troppo piccolo e sarà difficile poi poter avere una parte di bluff, una parte di value allargata contro certi giocatori, le frequenze qua vanno abbastanza riviste. Contro la cibet la linea è piuttosto buona, nel senso che stiamo foldando un 60-45, 57-46, 57-43, buon dare, sicuramente dobbiamo ragionare sul nostro intero range ma il profilo è piuttosto buono. Sul check for the check race niente da dire, la linea di aggression è mediamente molto bassa, 1-1-20, battiamo poco, ci accogliamo un po' tanto, abbiamo una linea proprio passiva quindi difficilmente andremo a vincere i piatti grossi quando sarà l'occasione e soprattutto accompagnato dal nostro range di floating, cioè di call, scusate per flop, del nostro call-call andremo a creare dei piatti mediamente piccoli subendo l'aggressione dei nostri avversari, spesso anche fuori posizione e il range del nostro avversario diventerà via via più forte mano a mano che metterà le varie street mentre il nostro range di call resterà mediamente debole perché abbiamo 1-1-20 per cui abbiamo una linea sbilanciata in passività. 11 di dongbet è alto perché dongcare 11 comunque tanto concettualmente la dongbet ci mette in brutti spot fuori posizione dopo aver solo chiamato pre lasciando troppo range forte in mano al nostro avversario eccetera eccetera la linea di bet verso smister 29 può anche andare è molto bassa sicuramente ma ci serve un po' di read pensiamo a pokerdassi 99 che apre ci betta 70-70 per cui lui betta sempre quindi potremmo risarlo piuttosto spesso avere del bluff in più del floating in più di value quando c'è caffolda un 73 non possiamo bettare verso smister 29 contro giocatore del genere dovremmo tipo raddoppiare le nostre frequenze e mettere nella nostra bett verso smister un sacco di mani che hanno diciamo poche V e via dicendo vediamo per esempio Tommy questo giocatore blu, zagro sbilanciato eccetera eccetera ha una linea sbilanciata al contrario infatti betta verso smister 73 e contro un giocatore del genere può starci avere anche una linea sbilanciata in questo modo mi raccomando dipende dai nostri avversari però se di media abbiamo 29 vuol dire che mediamente non sfruttiamo assolutamente questo spot andiamo a dare un'occhiata al nostro grafico eccolo qua abbiamo una rossa che scende negli inferi per quanto abbiamo anche una linea di profilo preso piuttosto aperta ma dipende anche dal fatto che stiamo ci mettendo poco collando tanto tenendo una linea passiva quindi andremo fuori a foldare e a perdere molto di linea rossa abbiamo un una linea siamo un po' sopra V ah si una cosa che non ho detto siamo un po' sopra V a quanto pare siamo un po' sopra V perdiamo 4 avremmo dovuto perdere 40 al 2 sono abbastanza buy in nel senso fare un meno 20 buy in in 40.000 mani pagare 80 di rake e avere 0 indietro è suicidio cioè è un suicidio è morte sportiva qui avremmo mettiamo di essere su una room che ci dà back avremo il 42 euro di rake back 45 euro di rake back quello che è avremmo fatto vabbè meno 3 di reale quindi avremmo fatto più 40 con un EV di meno 40 avremmo fatto even invece qua abbiamo fatto proprio meno 40 e meno 3 solo grazie all'EV per cui semplicemente abbiamo diciamo perso un po' di soldi abbiamo perso un po' di soldi e va bene comunque una rossa che scende un EV che abbiamo detto la blu che sale abbastanza va bene ma sulla rossa dovremmo un po' lavorarci non possiamo avere una linea di questo tipo perché se no appena la run non ci sorride per cui ci becchiamo un periodo di even situazioni dove gli showdown non sono proprio nel nostro campo di battaglia la rossa continua a portarci giù 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 per cui finchè la blu sale a malettone va bene perché i nostri robi ci pagano ma allora dobbiamo avere una buona lettura e farci pagare sempre tanto se no semplicemente andremo a perdere di rossa inevitabilmente perché se vedete stiamo perdendo più di 10.000 big blind che sono veramente un sacco di linea rossa soprattutto visto che ne vinciamo 10.000 di blu stiamo giocando un singolo tavolo per cui il solito zoom le solite situazioni che già sapete non voglio dirvelo ogni volta ma lo zoom non permette tavolo selection non permette di scegliere una posizione non permette di prendere praticamente note di vedere gli showdown perdiamo talmente tanto nel margine di skill che è tempo buttato proprio gettato perché il nostro margine di miglioramento 40.000 mani giocate così è meglio giocarne 10.000 giocate bene davanti a dei giocatori su cui allarghiamo il nostro panorama il nostro paniere di informazioni e diventiamo dei giocatori migliori piuttosto che giocare come automati 40.000 mani sempre uguali l'una dopo l'altra e trovarci a fine mese a giocare esattamente come abbiamo iniziato e allora chi ce lo fa fare? siamo qua per i soldi? non credo siamo in anime 2 non credo che Hero sia qua per fare un sacco di soldi dovremmo essere qua per migliorarci diventare giocatori migliori potenti i soldi arrivano da soli e potenti soprattutto i soldi arrivano man mano che noi miglioriamo non giochiamo per i soldi ma il nostro stile che va a migliorare ovviamente porterà profitto ovviamente per cui non c'è neanche bisogno di stare là e dire oh sta settimana non ho vinto quanto volevo non posso andare al mare che ne so perché lì è chiaramente un problema di mindset piuttosto profondo che va a inerpicarsi i nostri range posizionali sono troppo aperti 25-27 soprattutto dalle prime posizioni cutoff e bottone poi vanno già meglio la linea di 3-bet è identica da tutte le posizioni la linea di call-call è estremamente alta anche da small stiamo chiamando 26 che è veramente mostruosamente tanto siamo veramente alti in tutti gli spot appliceremo a brevissimo un filtro il nostro 4-bet è semplicemente inesistente in tutte le posizioni stiamo chiamando un po' tanto contro il 3-bet non che sia tantissimo cioè 56% di fold può andare se abbiamo motivo margine lettura lettura situazionale del nostro avversario e una buona concezione di quello che stiamo facendo se noi ci troviamo a chiamare metà delle mani di under the gun e a foldare due terzi da bottone probabilmente stiamo giocando un po' troppo le carte che abbiamo e un po' troppo una costruzione teorica la linea di squeeze è sostanzialmente inesistente è anche inutile parlarne semplicemente attributiamo poco e solo value e va bene il nostro winchashodan è alto da tutte le posizioni accompagnato anche da un alto gap di call per cui chiamiamo tanto fuori posizione facciamo tanti showdown stiamo anche vincendo qualcosina come con win to showdown ma sicuramente è uno spot che sbilancia molto va bene avere un win to showdown un po' più alto è meglio averlo un po' più basso fuori posizione in linea in linea teorica di bilanciamento i nostri c-bet sono attorno eccole qua bassa 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 bettiamo troppo poco al flop al turn ribarelliamo sensato ma abbiamo un range troppo piccolo praticamente che ci viene nel flop linea di aggression mediamente bassa river con le offizie si non così malvagia ma siamo attorno all'uno vuol dire che praticamente vinciamo metà delle volte quando andiamo a chiamare il river andiamo ad applicare un filtrino così easy mettiamo un filtro molto facile quindi mettiamo VPP sì mano giocata rilanciata nuo quindi mani giocate ma non rilanciate non è il filtro esatto del call call e non abbiamo tolto dei range di mani chiaro che qua magari Iroh ha flattato un asso-asso davanti a uno indiretto non è che ha sbagliato ma notiamo come la linea di call quindi proprio il gap abbiamo chiamato solo ci stia facendo perdere a bombazza e quando noi andiamo a chiamare dovremo chiamare per far profitto cioè abbiamo investito a zero soldi qualcuno rilancia e noi andiamo a investire soldi su un piatto su cui non abbiamo investito nulla se lo facciamo è perché andiamo a fare soldi non andiamo a dire ah dobbiamo chiamare perché che ne so ah sono del 86 quindi 8 e 6 no chiaramente sto scherzando ma non dovremmo chiamare senza un'argomentazione valida va bene avere un range di call ci mancherebbe ovviamente ci mancherebbe solo quello ma attenzione perché se il nostro call in range sta perdendo soldi c'è decisamente qualcosa su cui ragionare andiamo proviamo a togliere un po' un range un po' più forte quindi andiamo a togliere un po' le nostre coppie la nostra parte su itel quella un po' più forte queste mani qua toglierò anche le coppiette solo perché su poche mani tendono a sbilanciare molto le stats togliamo queste mani qua e togliamo anche a soccorsi stavolta che abbiamo affrontato dei vari corti vediamo cosa succede togliendo questo tipo di mani diamo un istante al demanager per farcela e perdiamo a bombazza ok con queste mani semplicemente abbiamo sempre e solo dilapidato di nero notiamo anche che da small blind tolto quel range di mani abbiamo un risultato di 1214 di call call foldando sarebbe stato meno 50 bb100 ok foldiamo mezzo buio su 100 volte meno 50 bb100 invece riusciamo a fare meno 75 ecco da big blind invece stiamo facendo meno 40 quando foldando avremmo fatto meno 100 ok perché foldando big blind per 100 volte meno 100 bb100 va bene è facile quindi attenzione a questa linea di call call che ci sta costando una bombazza non vuol dire che non dobbiamo mai chiamare non chiamo più perché il giocatore di poker forte c'era un detto che non mi ricordo che abbia detto ma è un detto per cui qualcuno l'ha detto che diceva se la mano è abbastanza forte per chiamare allora è anche abbastanza forte per rilanciare chirps ovviamente era un po' una sboroneria dei tempi d'oro quando si giocava a poker nei peggiori bar di Caracas sorseggiando room sponsorizzato ma ovviamente la cosa era così come idea nel senso l'equity di un giocatore aggressivo è per forza maggiore di quella di un giocatore passivo se pensiamo allo stesso identico spot abbiamo Asso Jack per esempio esce un board che ne so 6-4-3 ma non ha importanza il board e il giocatore dei due dei due giocatori che ha Asso Jack che ha l'aggressione vincerà più spesso di quello che non ha l'aggressione a parità di mano e a parità di situazione semplicemente perché può far foldare l'altro in sostanza quindi a parità di condizioni la linea aggressiva paga di solito di più ma non è che dobbiamo rilanciare tutto non è che diciamo allora rilanciamo sempre e comunque un attimo che c'è il filtro applicato quindi dobbiamo aspettare che carichi le mani va bene comunque notiamo che in linea di calling range perdiamo 40 bombazze e stiamo facendo meno 40 di V ok quindi dovremmo decisamente pensare di chiamare un po' meno inutile di nuovo guardare gli spot per capire table selection capire un sacco di cose da stats non si può fare non si può giocare a zap non si può fare niente torniamo sul nostro 8-8 e andiamo a vedere qualche mano specifica per capire un po' cosa ha combinato il nostro hero in linea di size in lettura dei nostri avversari in impostazione di gioco c'è sicuramente tanto da fare anche per il demanager che non ci sta dentro ma comunque abbiamo 8-8 apriamo 3 per può andare riceviamo una 3 bet di un 40 20 10 ok andiamo a collare certo su questo board il nostro apobeta ricordiamoci che betta sempre questo giocatore qua decidiamo per un mini raise cbet attenzione e guardate che in linea di principio a parte che ho 8-8 vabbè in questo spot non gioca un granché perché comunque questo board il nostro avversario che è tribetta un 10 di media lo hita piuttosto bene ma in linea di principio qua può avere anche senso una linea di call un po' un po' forzata su questa board texture mini raise early cbet è una cosa un po' forzata ma se lo facciamo lo facciamo per un motivo noi pensiamo ah il nostro apobo tribetta a caso su questo board ci betta sempre quindi folderà spesso ok però come stiamo planando la nostra mano le nostre frequenze quali saranno mini raise un flop e tipo se veniamo chiamati siamo morti perché che poi riusciamo a battere o far foldare cosa c'è jack 10 forse forse nient'altro comunque abbiamo mini raise una cbet oppo cicolla turn di nuovo migliore su range perché ora anche lo so jack 10 asso jack sono mani che migliorano equity il nostro apobo check non folda mai ne mettiamo alfa lui ci colla river è un blank oppo beta e noi risiamo è vero che questo apobo ha una river bet piuttosto alta è vero tutto quello che volete ma su questo board kq e jack noi abbiamo kq e 10 abbiamo talmente tanto value su questo board e noi abbiamo chiamato il lancio preflop per cui siamo under the gun per cui noi qua possiamo avere asso jack kq k10 direi di no possiamo avere kk kq asso asso jack jack possiamo avere un sacco di mani veramente forti e non che jack jack sia fortissimo al river ma mini raise cioè raise qua 8-8 contro questo giocatore non ha bluff sostanzialmente nei range che li faremo foldare non folderà mai una mano migliore della nostra non credo che qua oppo folderebbe una mano tipo asso kuku jack o mani di questo tipo perché insomma visto il tipo di giocatore dubito lo farà qui il mini raise cbet flop ci ha messo un po' in un brutto spot su un brutto board dove il nostro avversario vita abbastanza comunque oppo con la gira kq poi li abbiamo regalati probabilmente probabilmente sì mi raccomando la lettura anche del board texture e su chi hit effettivamente quel range quel board capisco che sia difficile foldare contro giocatori del genere perché sono estremamente sbilanciati e perdono perché bettano troppo ma cerchiamo di avere anche noi delle frequenze un po' più bilanciate contro di loro vediamo questo capperone cappone cappone c'è un'apertura noi trivettiamo questa size che è un po' inguardabile il nostro avversario chi è? un 30-15-5 quindi similmente a noi gioca 30 trivetta poco anzi in realtà è un 34-17-0-3 cioè 3 di trivetta questo giocatore apre un po' troppo poco ma ci può anche stare trivetta poco è proprio un giocatore nel profilo piuttosto nitti preflop onestamente con man di value ma in generale quando trivetiamo questo giocatore non dovremmo ridurre size perché l'errore di questo giocatore è che come vediamo folda 0 alle tribet 33 di media 0 restill 0 non folda questo giocatore niente trivetta non folda mai 0-0 di frequenza 1 di aggression 1 di aggression 7 di bet verso smithead 50 di dongbet è proprio un giocatore che perde perché chiama troppo quindi perché dovremmo ridurre size se mai potremmo addirittura allargarla è eccessivo però siamo deep stack siamo fuori posizione siamo contro capitano stationary per cui se mai posso accettare un 24 preflop che è un po' eccessivo ovviamente ma non andrei mai a calare non andrei a calare a 14 perché veramente stiamo tribetando 2.5 per che è una size che può andare bene magari negli spin and go in certi spot ma onestamente nel cash game più che 100 per contro giocatore del genere con la nostra parte di value contro giocatore su cui abbiamo rid che non tribetta mai non folda mai non folda mai post qui è infossare e farci scoppiettare da un giocatore deep che ci gioca in posizione ed è molto passivo errore di size chiama hop poi vabbè la mano si evolve bettiamo mini laser ci betta del super passivo su questo turn andiamo a broccare ora questo giocatore è Gunther Gunther mini laser ci betta è vero che battiamo al suo Q nel suo range c'è al suo Q KQ lo bloccheriamo Qjack vabbè potrebbe averla potrebbe avere anche degli altri QX può ovviamente un giocatore del genere visto quanto apre quanto non folda avere il GC jack avere un sacco di assi sweeter avere un sacco di card per cui quel 2 in realtà è tipo un disastro nel nostro range noi non abbiamo il K di picche che ci dà maggiore equity ma soprattutto diciamo bloccher un po' del suo range di value quindi KQ K10 eh sì Kjack K10 scusate quindi in realtà andare in check race non è proprio un gran scelta contro lo giocatore che è uno del Gresh 0-7 di bet versus miss c'è a mini risato flop se c'è a mini risato flop qui il suo bottom range è al suo Q tutto il resto batte noi praticamente KQ lo bloccheriamo non lo consideriamo al suo asso vabbè vorrei mettere una roba for betata pre però non è proprio una gran scelta andare in check race turn su questo 2 fra l'altro sul turn comunque vabbè Oppo per non farci mancare nulla ci gira gli assi con l'asso di picche non è una sorpresa ma un conto era bloccare su un piatto Fanta enorme direi che sfiga un cooler ci ha girato gli assi un conto è mini tri-bettare pre chiamare un risato la c-bet check race turn contro un giocatore del genere perché mini risare pre perché chiamare un mini risato flop perché bloccare su un brutto turn che migliora il suo range perché 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 abbiamo KK no? over pair over pair è sempre forte ok forse no forse sì anche però mi raccomando ci serve una lettura specifica non giochiamo la mano perché abbiamo la mano pensiamo al nostro range pensiamo a reggere il nostro avversiamo al sario pensiamo alla vortex pensiamo alle sue frequenze pensiamo a tante cose e solo dopo giochiamo abbiamo giocato uno per zoom dovremmo avere tempo no? per meditare su quanto sta accadendo comunque apre under the gun un 24-17 tri-bettiamo una size che è un po' comunque un giocatore che non folda tantissimo una linea di call sarebbe stata un po' più standard qua in posizione considerando anche il fatto che a sinistra abbiamo un giocatore che tri-betta il 2 un altro che tri-betta il 2 non credo avremo molte difficoltà comunque ok tri-bettiamo in posizione a un po' forbetta lungo forbetta 3x ed è un giocatore che tri-betta il 2 e viene da under the gun ed ha un profilo piuttosto fisci molto gapposo molto neat eccetera che range mai può avere questo giocatore ovviamente a k al suo bottom range e non escludo che i giocatori di questo tipo pusherebbero addirittura k ma non lo so nel senso non ho read ma neanche hero a read tanto sta giocando zoom quindi mai vedrà uno showdown in vita sua se non quando aumenterà i soldi vabbè comunque poi esce il board andiamo a risarli a cibetto a poco con l'attenzione alla scelta di tri-bettare pre attenzione a regge del nostro avversario che tri-betta il 2 viene under the gun e ci forbetta lungo mi raccomando perché ha forbetato a 45 ha forbetato 3x e il nitty over player c'è un giocatore da profilo molto chiuso e che poi diciamo che il suo range lo gioca in maniera piuttosto aggressiva tendono veramente sempre a girarci questo tipo di combo perché sono queste cioè assoasio, kk, kk e kk sono 6-12-18 mettiamo anche che abbia queste 12 combo di assoasio, k off quello che è ha comunque più spesso over pair per capirci su questi tipi di giocatori per cui decidiamo la linea attenzione alla tri-bet pre attenzione poi a tenere questi piatti a chiamare con over pair per tanto poi broccare il flop ma rischiamo che su quel flop a kk per esempio ce lo foldino magari bet folda invece assoasio, kk, kk 10-10 quello che è jack-jack invece ci vanno a broccare e ci mettono praticamente sotto un treno cioè siamo veramente abbiamo zero equity per cui o brocchiamo per e allargando il nostro range di value in virtù della nostra lettura oppure non possiamo chiamare per broccare poi su un flop dry perché allora tanto valeva broccare per flop dove il suo range rimaneva più aperto ok non voglio dire brocchiamo sempre con 9-9 contro un raise under the gun che for bet a 3x era l'esatto contrario comunque cosa succede apre 4x un under the gun che ha un 26-15-3 in questo spot decidiamo di col collare siamo suited e colla anche quest'altro comunque preflop una tribet avrebbe avuto senso perché è un giocatore che comunque fold a 0 ha aperto 4x ma quando noi andiamo a tribetare lui chiama abbiamo ancora abbastanza value cioè giochiamo ancora abbastanza bene contro il suo range e tribetare avrebbe diciamo creato una linea di gioco di heads up comunque esce donkando un 30-10 piuttosto passivo però ha 20 di donkbet quindi sta bettando sostanzialmente sul tiro range chiama tanto per cui lui qua può girarci per capirci 6-7 due picche dk più deboli perché sta tribetando poco per cui siamo tipo sempre buoni qua andiamo a chiamare quando in realtà su questa vortex poteva starci anche un check race poi tovetano non cambia nulla river check bettiamo oppo pusha ora questo 2 è un po' un disastro ma è un disastro perché oppo qua ci può girare asso 3 suited 3-6 suited è forzato non credo l'abbia molto e bettiamo small per collare con questo river bet che in realtà probabilmente avrebbe trasformato in bluff forse un check call era meglio comunque prenderemo nota su questo giocatore che qua fra l'altro ci gira proprio l'asso 3 preflop abbiamo missato un po' di value in tribet al flop abbiamo missato value contro questo giocatore il turn è andato check check che non è proprio la migliore delle scelte fuori posizioni tutto per dire che tutto parte da un preflop dove il piatto era molto piccolo 4 big blind più il call diciamo un piatto molto piccolo che poi al river all'improvviso diventa un pot da 5 euro al nonimi 2 c'è qualcosa che ci è sfuggito nella costruzione di questo pot su quella board texture ok il 2 è molto blank posso capire tutto anche sulla linea di call le hop può avere qualche kx che onestamente credo avrebbe chiamato river piuttosto che risato credo va bene però la mano era molto forte chiaramente nel nostro call in range vai all the manager ce la puoi fare cosa succede qua c'è un mini raise tribetiamo ci sto e va benissimo va bene anche size contro giocatore di questo tipo va bene tutto succede che il nostro hop ci colla poi esce 8 9 8 di un giocatore 21 15 che apre per 2 il bottone e non folda quindi non è proprio un grandissimo board noi bloccheremo anche il k-suite non è proprio la migliore delle cose comunque mettiamo e mettiamo leggermente meno di mezzo in realtà potremmo voler alzare size ma ok comunque è un board paired turn mettiamo e questa volta andiamo sul pot sized cioè alziamo un sacco size e quindi stiamo tenendo una linea piccolo flop grande turn piuttosto potremmo fare una linea un po' più bilanciata o piuttosto il contrario piuttosto comunque sul turn il 4 si aumenta i draw che il nostro hop può avere ma non credo abbia molti 3 quinti di colore a cuori su questo board un po' colla river esce un 9 che è un disastro perché la top era nel suo range è un giocatore che apre per 2 pre e chiama quindi ha molti 9 ha molti 8 ha qualche 10 jack qualche 10 7 in realtà anche nel suo range quindi noi a river andiamo a potare cioè a pushare in sostanza per commentarci e abbiamo creato un po' una linea un po' a caso anche perché su questa betta river su quel 9 la nostra mano è effettivamente value cioè se noi facciamo una size di questo tipo oppo con che ne so 5 5 6 6 7 7 ci chiamerebbe questa size al river o stiamo semplicemente bettando boh perché abbiamo KK senza pensare alla vortex al range del nostro avversario se lui può avere dei 9 e noi ci possiamo avere dei 9 noi che ti ribettiamo il 5 siamo da questo spot noi 9 non ce l'abbiamo mai possiamo avere 9 9 ok bella forza forse 8 8 forsissimo però è una combo è una combo quindi qua tipo non abbiamo mai nulla e stiamo un po' overplayando comunque oppo magia ci gira poker grande oppo che apre per due gioca in questo modo ma pensiamo che lui ha più 9 ha più 8 ha un range un po' diverso dal nostro e se noi prendiamo il nostro overplay e le mettiamo un po' un po' a random senza l'attività dei nostri avversari non è proprio il migliore delle scelte anche su quelle size meno di metal flop potta al tarne push al river push praticamente push attenzione perché qual è il range del nostro avversario con cosa ci può chiamare su quel river apriamo 3 per con la button che è un giocatore che triverta 5 con la fish 31 75 ok isci un gran board in teoria mettiamo una size che può anche andare veniamo chiamati da un abc 24 13 5 1 di aggression bassi fall bassi aggression basso tutto tutto basso è un giocatore un po' tappetto mettiamo anche turn oppo mini raise turn e noi chiamiamo river blank check coglia no check resiamo ecco questo è il punto check resiamo ora pensiamo al range del nostro avversario su questo board super dry super dry no k7 4 cosa può avere il nostro oppo tribetta anche poco può avere kq probabilmente ma non so se avrebbe raiseato non credo può avere dei 7 nei range perché ovviamente ha chiamato pre ha un alto cap di call può girarci 6-7 può girarci asso 7 può girarci 7-8 può avere qualche pair può avere 8-8 9-9 5-5 6-6 chi non avrebbe mini raiseato turn il cap secondo me l'avrebbe chiamato i 7 li avrebbe mini raiseati ovviamente resta 4-4 7-7 molto improbabile e molto altro sui river semmai se proprio potremmo volerci accollare piuttosto che check resare perché non ci aspettiamo una betta da questo giocatore quando noi andiamo a check cioè se questo giocatore betta se ha kjack check a back e non credo neanche avrebbe raiseato turn probabilmente quindi onestamente quando noi creiamo questa linea prendiamo cioè il nostro messaggio metterebbe i soldi solo con 4-4 7x e non credo betterebbe molti kx per cui è un po' forzato cioè abbiamo il k allora mettiamo pensiamo alla vortex pensiamo a quanti draw possono esserci su questo flop tipo nessuno nessun con il rent tipo nessuno 6-5 forse marginale ma ovviamente non ci chiamerebbe river se anche avesse giocato così questa mano e comunque il profilo è di un giocatore molto passivo comunque noi resiamo oppo gira 7-9 ci sta probabilmente ci sta anche perché fulda poco mini race turn su un k dove noi barilliamo due strade questo giocatore ci fa il k e ci sta dicendo che ci batte praticamente lo sta facendo e noi dovremmo essere là per leggere queste cose ho visto poi che hero non ricarica spesso cioè no spesse volte non ha ricaricato l'ho visto con mid stack l'ho visto con stack un po' strani boh mettiamo l'auto dei buy stiamo giocando zoom almeno quello ci può stare l'impound 22-2 22-2 vabbè giocatori un po' particolari andiamo in isolation la size è molto piccola onestamente veniamo tri-bettati dal big blind andiamo a chiamare su questo flop hop bet half e noi resiamo la c-bet su questo giocatore perché resiamo la c-bet cos'è questa move è value boh pensiamo a reggere il nostro avversario può chiamarci da dietro cosa dovrebbe avere per chiamarci da dietro 9-9 non penso da dietro poi cosa ci chiama 8-8 non mi pare proprio Q-Jack Q-Jack è una mano contro cui forse possiamo estrarre un po' di valore i K ci crashano se a 10 c'è la migliore del nostro se a 3 mettano 10 non ci chiamerebbe con un 10 peggiore non credo che abbia 10-6 giocato in questo modo anche perché non ci metta poi così tanto resiamo un po' random Tarn esce un 7 che non cambia un granché mettiamo ancora hop c-mini resa e vabbè abbiamo 20-100 siamo partiti corti però abbiamo creato una situazione non esattamente ottimale hop gira K non è sorpresa ma perché abbiamo resato qui perché questo giocatore mi sta chiamando mentre registro una lettura non lo so lo nasconderò lì sotto voi spero non abbiate visto il nome ma non credo a breve dovrò guardare perché magari ha veramente bisogno di aiuto un'emergenza nel poker non so quale sia onestamente ma non posso tirare sulla chat se no vedete chi è e non sarebbe carino comunque ok mancano poche mani resisti bro insomma ne manca qualcuna resisti bro a breve andremo a vedere cosa ha il nostro non posso dire il nome allora di nuovo 1,37 euro perché perché non li stiamo ricaricando perché è chiaro che se abbiamo margine sul livello giocare deep è un'ottima scelta non c'è motivo di giocare short e non c'è neanche scusa da dire ma non ho fatto tempo a ricaricare stiamo giocando un tavolo stiamo giocando zoom mettiamo l'autore buy certo non è che dobbiamo partire da tavoli vuoti fare table selections cambiare il nostro stack stiamo giocando zoom sediamoci deep stack non c'è nulla da fare per prendere margine in questo spot comunque apertura under the gun chiamiamo what in realtà questo perché è un giocatore che folla 73 e apre un po' troppo però è molto neat né tribettati né farbettati stiamo missando value in più lasciamo che un giocatore con un altro gap di call si chiami da big blind pure un giocatore che overfolda flop ed è un giocatore che poi ci farà perdere soldi comunque folda poi vabbè su questo board succede che betta colla betta colla mettiamo noi river lui colla ci gira gli assi avremo comunque perso questa mano però non c'è motivo di infossare qua la nostra tribet in value giocando fuori posizione in questo spot non c'è motivo dobbiamo alzare un po' la nostra tribet dobbiamo alzare la nostra parte di value alzare la nostra parte di bluff migliorare la nostra lettura sui nostri avversari questa mano l'ho segnata solo per questo motivo la vediamo subito la vediamo subito appena audio manager ci dirà qualcosa in questo spot hero è under the gun in suo range questo spot dovrebbe essere un po' più chiuso a sotto sweet and under the gun in un 6 max non è esattamente una mano che vogliamo standard in un 6 max soprattutto c'è chi rilancia tutti gli assi dalle prime posizioni perché è un vero figo no? perché è un vero figo ma siamo non le mie due restarts non c'è bisogno di avere questi tipi di mani da queste posizioni quindi hero cosa fa? la limpa perché? perché sono triste quando vedo queste cose limpa in più c'è un rilancio e limp call e poi vabbè poi su questo flop va a chiamare per poi foldare turn perché bro? perché hai limp callato? è una cosa proprio brutta non voglio più parlarti no 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 sto scherzando però ecco rimuoviamo questi curiosi spot limp call proprio estremo 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 2-2-5-5 avere una linea di limp call limp preflop in certi tavoli può allontanamente avere senso io non ve l'ho detto non fatelo don't try this at home ma possiamo fare profit se pensiamo a come gioca la mano contro i nostri avversari ma è rara la cosa non possiamo avere degli assi sweeter qui andiamo a chiamare solo che può anche avere senso poi il punto è che veniamo tribettati da un 12-11-5 un 12-11-5 che è il suo range supernit qua tribetta sta squizzando in sostanza e vabbè tribetta 5 siamo sweet per carità siamo in posizione li impusciamo contro un mid stack con questa linea di gioco col pusciamo anche qui non c'è un granché perché se questa tizza 5 noi andiamo a repusciare questo spot c'è un po' veramente sfuggita un po' la situazione di mano dopo gira K noi andiamo a scolpiettarlo ma siamo sempre dominati da questo giocatore perché che tipo di mani può avere un giocatore che ha questa range può avere queste può avere forse queste può avere queste dobbiamo arrivare a un 5 siamo arrivati a un 5 non c'è bisogno di andare oltre mettiamo che abbia queste mani il nostro KQ suite voi non lo vedete perché sull'altro monitor ma fa lo stesso insomma questa è un avversario questa KQ come equity stiamo giocando un 30% abbiamo messo 3 BB dobbiamo metterne altri 50 erotti perché abbiamo broccato non lo so non può essere neanche una data di nascita perché a meno che non viviamo su Marzurnio che è un pianeta nel sistema solare di Donklandia credo nel sistema solare Donkluge KQ non può essere una data di nascita no perché nei calendari non c'è nessun mese o nessun giorno che inizia col K o col Q comunque apre un giocatore short aggro speewee speewee insomma aggro un po' lose ci betta tanto è un giocatore un po' aggro mid stack giochiamo in posizione giochiamo avanti in range non abbiamo nessuno che tribetta alla nostra sinistra 0-3 capitan nit e sua santità benedetto settimo re dei giocatori chiusi super nitti e quindi dovremmo chiaramente chiamare tre invece tribettiamo una size piccola poi dopo Bush andiamo a brucare con Q alta contro questo giocatore siamo riusciti a creare una giocata in EV meno in realtà qui era uno standard call in posizione per carità siamo off se non siamo tribettati dietro abbiamo un giocatore molto sbilanciato la mano a valore di top pair questo giocatore avrà una rossa positiva per vedere la sua frequenza potremmo saper foldare anche ogni tanto ma avrà una blu estremamente negativa noi stamperemo i milioni contro questo giocatore per carità è short non è un granché ma faremo un sacco di soldi siamo riusciti addirittura a metterle da dietro avremmo fatto un sacco di soldi perché avremmo chiamato però avremmo chiamato su questo flop e comunque avremmo broccato da davanti invece vinciamo un po' raccomandati scoppiando un 80-20 mi raccomando il motivo della tribett in questo spot ultima mano prima di andare a vedere cosa è successo al mio buon bro che mi snappa una chiamata le 9 di mattina del lunedì curiosa questa cosa magari ha miscliccato o magari gli sta andando a fuoco la poker room cosa piuttosto improbabile limperino apertura tribett con una size un po' piccola ok limp push è un 30-15-5 0 di 4-bet 0-0-0-0 limp push under the gun limp push ora che tipo di mani può avere il nostro avversario partiamo dall'idea partiamo dal nostro range questo spot noi stiamo tribettando 5 5 circa andiamo a scriverlo qua 5 è circa sono 70 combo ok circa 70 combo stiamo tribettando in questo spot perché abbiamo una media di tribettare 5 stiamo qui vabbè un po' particolare perché dobbiamo pensare al range contro questo giocatore ma non importa stiamo tribettando 5 il nostro hop investe 2,40 euro per vincere un pot arrotondiamo di 30 centesimi e lo stack effettivo è 2 euro dai pensiamo a 2 euro allora visto che lo stack effettivo è un po' più è 2,20 euro facciamo 2 euro facciamo 2 euro non importa tanto non dobbiamo essere pignoli serve solo per spiegare il concetto quindi se volete fare la matematica mi amoroso sappiate che insegna l'elementare andate a chiedere a lei che è molto facile il nostro hop investe è molto facile chiedere a lei non è che mi amoroso è molto facile 2,4 è quello che viene invertito per vincere un pot di facciamo 0,32 perché 0,32 non importa per vincere questo pot da un valore di 7,5 7,5 fratto b fratto b più 1 non c'è bisogno che facciamo sempre gli stessi calcoli 7,5 fratto 8,5 fratto 8,5 da un valore di eccolo qua 0,88 quindi noi dovremmo difendere un 12% del nostro range circa in linea di MDF 12% del nostro range apriamo 70 combo riapro una calcolatrice nuova 70 per abbiamo detto 12% perché virgola 70% è stata tastiera io la odio ma in realtà la adoro per abbiamo detto 0,12 il nostro 70 per 0,12 fa 500 credo di aver sbagliato qualcosa 70 per 0,12 non so cosa ho fatto comunque da una linea di difesa che dovrebbe essere di MDF 8,4 combo di MDF andiamo a vedere a quante combo corrisponde questa cosa so che lo sapete ma se noi ne abbiamo 70 8 combo queste sono 6 vuol dire che tecnicamente potremmo addirittura voler foldare alcune combo di KK vogliamo veramente farlo? non penso che folderemo alcune combo di KK volendo potremmo addirittura chiamare anche questo volendo ma ricordiamoci partiamo da 8 8,16,24 ecco questo è già un quadro di range di difesa ma se noi andiamo a difendere all'improvviso poniamo caso che questa è la range di base questa è la range di base se noi a un certo punto andiamo a mettere la sua cappa a questo range passa da 12 combo a 28 combo è troppo le difese è veramente troppo anche perché il profilo del nostro avversario è un 30 15,5 che limp pusha per cui che tipo di mani può avere il nostro avversario chiaramente può girarci alcune volte queste mega combo super fortissime perché sappiamo come giocano questi giocatori può avere queste può avere rarissimamente uno strano asso che non ha aperto ma è difficile può avere anche qualche coppia in mano perché sappiamo che questi giocatori possono farci un tiro del genere così ma la nostra equity contro un range barbino di questo tipo ho messo un range a caso ad essere sinceri non è che abbiamo fatto una grande analisi ma non importa perché è concettuale la cosa a cappa contro questo range stiamo vincendo tipo un 40% e ovviamente stiamo partecipando al 50% stiamo mettendo 2,20€ su un po' di 2,40€ per cui la linea di Potos è molto vicina all'uno contro uno perdiamo soldi ok perdiamo semplicemente soldi non c'è nessun motivo pensiamo al nostro intero range al range al nostro avversario le sue tendenze non è che il nostro avversario saprà che abbiamo foldato a cappa non stiamo facendo una figuraccia oh foldato a cappa se lo scopre mi amorosa mi molla brutte cose a meno che uno non sia una molla no un filo di ferro non mi viene nessuna non viene nulla che non sia vagamente volgare o vagamente sessuale per cui non continuerò questa battuta comunque questo sarebbe un easy fold quindi easy addirittura easy non è facile foldare a cappa si è facile c'è un tastino comunque il nostro opo gira a suo asso ma noi che non sappiamo per non saperne leggere e scrivere easy andiamo a scoppiettare anche questo asso eppure abbiamo vinto 3 euro con il minimo 40 quindi abbiamo scoppiettato la gente mi raccomando la ridice i nostri avversari detto questo ragazzi abbiamo analizzato tutto quello che volevo un profilo un profilo delle mani dei perché dei per come ovviamente se Iro vorrà proseguire lo studio eccetera è benvenuto abbiamo anche la nostra nuova skill partiamo alla grande che ritorniamo attivi con il super coaching sarà super divertente ci diventeranno come dei pazzi comunque detto questo io vi saluto vado a vedere cosa è successo al buon bro che mi ha chiamato blind collato gente che mi blind colla è incredibile capitano ancora queste cose comunque ok vi saluto ci vediamo al prossimo video per quello di oggi è tutto un saluto alla prossima dell'Orcane ciao ciao ciao